Stato di salute delle municipalizzate vuol dire anche stato di salute della qualità, della vita dei cittadini e Rocco Verardo, che cosa ci dice? Come radicali stiamo facendo una campagna sulle carceri, sull'amnistia, sulla giustizia. A Civitavecchia c'è un carcere e questi sono i numeri del carcere di Civitavecchia. 620 detenuti in 440 posti. La stessa situazione si ha nel Lazio, 6.800 detenuti e 4.800 posti. In Italia, 66.000 detenuti, 45.000 posti. Ogni 150 detenuti ci sono 100 posti, branda, neanche posti. Questa è la situazione del carcere, ma è una parte del problema della giustizia. I cittadini sanno che ci sono 5 milioni di processi penali pendenti, tanti quanti sono quelli civili. Si sanno quando si iniziano, mai quando finiscono. E le prescrizioni, le amnistie di fatto, le amnistie di classe sono 180.000 ogni anno. La Corte Europea ci ha condannato per 2.121 volte, siamo secondi solo alla Turchia, come radicali. Partendo dal carcere di Civitavecchia, rappresentando la situazione della giustizia in Italia, non solo del carcere. Vogliamo fare una marcia? La vogliamo fare a Pasqua? Probabilmente la faremo o a Pasqua o nel giorno della liberazione. Grazie Marco Perardo.